Eri benvenuti e bentornati su Florence International Radio, la notte del mistero, puntata meravigliosa questa sera, rimanete collegati perché abbiamo con noi in collegamento Skype Emanuele Sant'Andrea e Francesco Cappelletti, a voi. Buonasera a tutti, questa sera abbiamo un ospite di eccezione che è Francesco Cappelletti e Francesco Cappelletti non ha bisogno di presentazioni, è il padre della mostrologia moderna lui è di Firenze, è il fondatore dell'insufficienza di prove ed è un sito interessantissimo che raccoglie molte informazioni sulla controversa storia del mostro di Firenze, inoltre è anche il fondatore del blog Facebook, il mostro di Firenze, fondatore o comunque gestore o comunque Deus ex machina. Quindi anche all'interno di questo gruppo potete trovare grandi spunti ed elementi di discussione. È un ricercatore, è uno scrittore, ha scritto mi pare due o tre libri sull'argomento, forse ne sta anche scrivendo un altro e ce lo dirà poi lui più avanti, se questa notizia è confermata e se ha voglia di farlo. Prima di partire però con la nostra puntata, il tema della puntata è ovviamente la notte del legionario, o meglio storia di un legionario che è l'ultimo o meglio l'ultimo membro di questa coppia, di questo strano duo che sembrerebbe a un certo punto entrare a far parte della storia legata al mostro di Firenze. Però prima vi ricordo il numero per intervenire in diretta che è 055 24 77 985. Vi chiedo se avete voglia di fare qualche domanda a Francesco, lo potete fare, magari lasciateci avviare la prima oretta di trasmissione così, poi magari avrete anche degli spunti per delle domande più dettagliate. ripeto il numero per intervenire in diretta, 055 per chi chiama da Firenze 24 77 985, per chi chiama da fuori Firenze 055 24 77 985. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale e di attivare la famosa campanellina in maniera tale che ogni qualvolta un nuovo video verrà caricato, verrete tempestivamente avvisati da un piccione viaggiatore. A questo punto io credo che possiamo dare inizio alla puntata e buonasera Francesco. Buonasera Emanuele, buonasera a tutti voi e a chi ci ascolta. Come stai, com'è la situazione a Firenze? Tutto bene, abbastanza drammatica come un po' ovunque, direi. Non si può uscire, non si può… vabbè, è tipico della pandemia, tanto ormai ci siamo abituati, dopo un anno credo che più o meno si sia quasi tutti un po' disillusi, un po' abbattuti da queste restrizioni, però insomma il buonsenso porta a seguire le indicazioni che ci vengono date e chiaramente augurarsi che prima o poi questa situazione drammatica, a dir poco, termini, finisca. Certo. Le parlavo oggi… scusate ma… No, no, figurati. Le parlavo oggi con il nano e insomma col mio figlio e un'epidemia non l'avevo vissuta io, non l'aveva vissuta mia mamma e nemmeno mia nonna, è colui che a sette anni si ritrova a vivere una pandemia, insomma è abbastanza curiosa come situazione, se non unica per fortuna. Certo, il nostro pensiero questa sera va a tutte le persone che sono state colpite dalla pandemia e direttamente o indirettamente anche alle persone che sono rimaste da soli a casa per molto tempo e che sono rimaste lontane dai loro cari, dai loro affetti, dai loro hobby, dai loro interessi e a volte insomma bisogna stringere i denti, però come diceva Francesco tutto passa, ecco sono tutte prove e torneremo più forti di prima e quindi… Ma non più migliori, ma non migliori. Anche più migliore. Anche più migliore assai. Ma quindi mi sembra di capire che tu in qualche modo è qualche anno che ti occupi della storia del mostro di Firenze. Sì, sono 13 anni praticamente, 13 anni da quando ho iniziato a leggere i primi libri a quando ho iniziato a farmi le prime domande e a cercare le prime risposte e anziché trovare risposte ho trovato sempre nuove domande. Dalla lettura dei vari libri sono passato a cercare i vari protagonisti di questa storia, poi per fortuna ho incontrato l'avvocato Vieri Adriani che mi ha praticamente consentito di leggere le prime sentenze. Avevo già avuto un valido complice in questa passione che era Stefano De Gotia, che probabilmente qualcuno di voi conoscerà, da cui ho ereditato tutta una serie di documenti che 13 anni fa era abbastanza difficile recuperare. Adesso in rete si trova molto del materiale a cui ambivo come un forsennato, perché leggere gli atti ufficiali non era così scontato. Stefano aveva questa fortuna di aver collaborato con l'avvocato Filastò, di aver conosciuto un bel po' di giornalisti. Possiamo dire il suo nome? Scusami, possiamo dire anche il cognome, quello vero? Sì, Stefano Galastri. Ci ha lasciati Stefano. Ci ha lasciati purtroppo, sì, decisamente troppo presto. E quindi niente, da lì in poi, come dicevo prima, è stata tutta una ricerca che continua tuttora, non so se porterà mai a qualcosa, però insomma non posso fare a meno di farla. E quindi si va avanti così, insomma, chi ha voglia di affrontare con me questa vicenda, con questa passione, più che volentieri, insomma, mi fa sempre piacere trovare persone con cui parlare di questa cosa, perché alla fine è una mia passione, è come andare allo stadio e ritrovarsi con degli amici a condividere gli stessi interessi, tutto qua. Certo. Allora, visto che li hai nominati, salutiamo ovviamente l'avvocato Dino Filastò e l'avvocato di Adriani, che si sono impegnati parecchio in questa storia e direi che entrambi hanno fatto molto bene. Volevo chiederti, mi sembra di capire che l'argomento della nostra puntata di questa sera siano i recenti avvenimenti che hanno coinvolto Gian Piero Vigilanti. Gian Piero Vigilanti, l'ex legionario, protagonista di puntate televisive, di talk show, anche di libri, riceve un'eredità, però le cose più interessanti per la nostra storia sono ben altre. Ovviamente Gian Piero Vigilanti, prima di essere stato additato come in qualche modo coinvolto in questa storia e di essere poi a quanto pare a novembre, se ricordo bene il 10 o l'11 di novembre, archiviata la sua posizione insieme a quella del suo caro amico Francesco Caccamo, ormai loro non hanno più niente, il giudice mi sembra di capire che ha detto qualcosa c'era, però tutto sommato gli elementi non sono sufficienti. Io volevo chiederti, tu ormai hai tanti anni che conosci e che ti occupi di questa storia, poi hai dei canali privilegiati, hai delle fonti anche riservate che sicuramente tali devono rimanere, però hai una conoscenza molto approfondita di questo caso. Leggi parecchio, analizzi molto, studi, ti confronti e quindi ovviamente normalmente ne sai circa tre ordini di grandezza in più di una persona normale. Ci vuoi raccontare un po' chi era Gian Piero Vigilanti? Chi era, quando è nato, quando è nato? Molto volentieri, molto volentieri mi sono fatto uno schema perché le cose da dire in effetti sono abbastanza, le dico abbastanza… Perdonami Francesco, perché se noi iniziamo le storie dalla fine, poi commettiamo l'errore di non capire perché abbiamo iniziato da lì, allora se noi iniziamo dal principio, quindi dal primo vagito, direi che poi possiamo soltanto andare avanti. In sombra di dubbio, c'è da dire che insomma come ti dicevo è una personalità decisamente non convenzionale, come tra l'altro molte delle persone coinvolte in questa vicenda perché recentemente stavo leggendo un po' dei verbali relativi a Pacciani, relativi insomma a quelli che sono i protagonisti di questa storia e ognuno di loro ha dentro di sé almeno tre vite convenzionale, tre, quattro vite perché hanno vissuto talmente tante situazioni che sembra veramente strano che stiano riusciti a rimanere in piedi. Giampiero Vigilanti è coesaneo e conterraneo di Pietro Pacciani, del ben più noto Pietro Pacciani, Pietro Pacciani è del 1925, Giampiero Vigilanti è del 1930, ci dice in uno dei verbali che ha sottoscritto di aver avuto tre sorelle, due gli sono morte per cause naturali, con una di loro rimasta in visa non parla. Come Pacciani… Adonami, tu dici conterraneo, ma conterraneo che vuol dire? Cioè toscano? Che abitava, che è nato a Vicchio, Vicchio di Mugello, ora Pacciani è nato ad Ampinana che però comunque fa parte chiaramente del comune di Vicchio e frequenta le scuole elementari che probabilmente erano le stesse frequentate da Pietro Pacciani fino alla terza elementare, come Pietro Pacciani, ma non è dato sapere se i due si siano frequentati, per certo si conoscevano perché Vicchio non è una metropoli, pertanto insomma coesanei probabilmente avranno frequentato gli stessi luoghi. Vogliamo spendere due parole su Vicchio, Francesco? Non saprei sinceramente cosa dirti di Vicchio, ma magari lo conosci meglio te secondo me Vicchio, io ci sono stato per chiaramente le mie visite ai luoghi topici, però in realtà di Vicchio so ben poco, è carina come dimensione perché è questo paesino molto limitato, molto piccolo, ma ho difficoltà a praticare, a frequentare i luoghi dove sono avvenuti questi omicidi perché chiaramente è inevitabile ricordare certe persone che possono aver vissuto certe strade, certi ambienti e quindi insomma mi monta molto velocemente un po' di ansia, di fastidio e quindi anche le gife, come le chiamano ultimamente in modo poco rispettoso, nelle piazzole dove sono avvenuti gli omicidi mi danno ancora un certo fastidio e non posso fare a meno perché chiaramente quando vai a studiare certe dinamiche, a confrontarti con quelli che sono i verbali dei principali testimoni che hanno riferito riguardo a questi omicidi, devi cercare di far tornare le distanze, la dinamica come dicevo prima, insomma è necessario vedere quelli che sono i luoghi, anche se per la maggior parte sono quasi tutti molto diversi rispetto a quando sono avvenuti gli omicidi. Certo, possiamo dire che Vicchio è un piccolo paese molto raccolto, chiuso intorno a Piazza Giotto, ha circa 4 mila abitanti, però ha tantissime frazioni e si estende su un territorio molto vasto. Pacciani, come giustamente diceva Francesco, nasce tra Ampinane e Paterno, insomma siamo verso la zona di Dicomano, ecco Vicchio è nel Mugello, nell'appendice nord-est più estrema, cioè nel punto in cui la sieve, a un certo punto, che arriva da San Piero, da ovest a est, punta dritta verso sud e scende verso punta sieve, quindi lì c'è un angolo. Che altro c'è a Vicchio? A Vicchio quindi abbiamo i nostri due protagonisti di questa sera, che vedremo hanno delle ancore importanti su Vicchio, quindi Francesco Caccamo e Giampiero Vigilanti, sebbene in due frazioni diverse, sempre a Vicchio dobbiamo menzionare, perché non possiamo passare da Vicchio senza menzionare Giotto, il Beato Angelico, Don Milani, che lì a un certo punto fu costretto a riparare dopo i fatti di Calenzano e a dar vita alla prima comunità don milanese lì su a Barbiana. Dobbiamo anche però purtroppo ricordare eventi più spiacevoli, come quelli che hanno coinvolto, fortunatamente, diciamo dal punto di vista giudiziario fortunatamente, il forteto, che è proprio di fronte a dove avvenne nel 1984 il delitto di Pierontini e Claudio Stefanacci. Quindi un paese molto piccolo, in un posto quasi sperduto, nel senso positivo del termine, che ha un panorama molto bello e difficilmente raggiungibile, dove però sembra essere un nodo focale di tante storie nella storia. Quindi, se ho ben capito, vigilanti per caso, le sue origini sono di Marradi, quindi un comune che sta a nord di Borgo? Posso guardare dove è nato? Sinceramente non mi ricordo dove è nato. E poi forse egli si trasferisce in frazione Caselle? Quello di sicuro, perché la madre abitava a Caselle, quindi sì, quasi sicuramente. che non è vicinissima a Villore, perché Villore è in un'altra valle, però come dicevamo prima, Vicchio è un piccolo centro abitato, bellissimo, grazioso, andatelo a visitare se non ci siete mai stati, Piazza Giotto, è davvero un angolo interessante del nostro rinascimento. E poi però ci sono anche tante frazioni sparpagliate sul territorio, e a volte anche difficilmente collegate tra di loro con strade bianche e tutti quelli che possono essere disagi per frane, smontamenti, eccetera. Perché diciamo queste cose? Perché ovviamente andare a commettere un delitto laggiù, bisogna conoscerli questi posti, perché non è che uno esce da Firenze una sera, Francesco, e si ritrova alla boschetta di Vicchio e dice adesso io… Decisamente no. Comunque ti ho guardato mentre parlavi uno dei verbali di Vigilanti, mi ricordavo appunto che era di Vicchio, ma non c'è specificato se è di un paese vicino a Vicchio, dice nato a Vicchio, quindi è probabilmente nato a Vicchio di Mugello, insomma. Perfetto. E quindi forse è soltanto la mamma che è di Marradi a questo punto? Può darsi, può darsi. Non ho fatto indagini sulla mamma di Vigilanti. Vabbè, sono così a volte… Sì, 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 certo. Perché abbiamo nominato questa cosa? Perché Marradi è un altro comune, bellissimo peraltro, in testa a Borgo San Lorenzo, ancora più su di Ronta. È a Ronta dove nel 2016, se non ricordo male, fu trovata la famosa pistola calibro 22, quella con il percussore, direi accorciato? Sì, era stata modificata, fu trovata in un fiume, hanno fatto indagini su questa pistola, ma chiaramente non aveva niente a che vedere con i delitti del mostro di Firenze. Certo. Almeno questo dice la perizia balistica. Certo, lo diciamo solamente all'Atele, mi pare che sia una pistola di cui è noto il numero di serie, realizzata, diciamo, bancata prima dell'inizio della serie delittuosa, ma a quanto pare poi commercializzata dopo il primo delitto. Adesso senza scendere in inutili dettagli. Perfetto. Perdonami Francesco, io ti continuo a interrompere. Raccontaci tutto quello che ci puoi raccontare su l'infanzia di Giampiero Vigilanti. Sì, eravamo rimasti che Pacciani e Vigilanti non si sa se si frequentassero, però è interessante una circostanza che Vigilanti racconta in un'intervista rilasciata al Gazzettino del Chianti, relativamente a questo incontro con Pacciani. era di vicchio come me, nel 1948 ebbe una discussione con lui perché aveva preso il lavoro al mio babbo. All'epoca il comune faceva fare dei lavori ai residenti per guadagnare qualcosa. Rimettevano le strade e spaccavano le pietre. Pacciani, dopo aver fatto il suo turno, vuole fare anche quello che aspettava il mio babbo, mandandolo via. Tanto che il mio babbo si arrabbiò molto. Io gli dissi, lascia stare me, ci penso io. Andai da Pacciani e gli tirai una bastonata in testa. Lui non mi denunciò, tanto per chiarire immediatamente come funzionavano le cose. Cosa succede successivamente? Che tra il 1949 e il 1953, Gian Piero Vigilanti tenta più volte l'espatrio clandestino verso la Francia, in cerca chiaramente di lavoro, perché la situazione, soprattutto negli anni 50, in piccole realtà come poteva essere il Mugello, credo che non fosse così Florida. Nel senso che chi riusciva a campare nel lavoro della campagna erano pochi e non credo che con questo agio. Vigilanti quindi cerca di andare a cercare lavoro in Francia, commette tutta una serie di piccoli reati per i quali finisce anche in carcere, in più occasioni per tempi relativamente brevi. Nel giugno del 1953 si arruola nella legione straniera, di cui lui va anche molto… Sto cercando di ritrovare una parola che non lo offenda. Diciamo fiero, vai. Lui è molto orgoglioso. Durante gli anni in legione riferisce aver partecipato alla guerra in Indocina, alla guerra franco-algerina e durante la trasmissione Il Bivio, trasmesso da Mediaset nel 2007, raccontò che nel 1954 ad I-Fong in Indocina fu sepolto vivo da alcuni nemici per poi essere liberato 5 giorni dopo da alcuni commilitoni. In un'intervista rilasciata precedentemente, che poi è sempre quella del Gazzettino dei Chianti, c'è qualcosa di diverso. Dice, me la sono segnata e la riporto, una volta fui catturato, volevano che rivelassi dei segreti militari, per farmi paura mi misero sottoterra. Vi rimasi per circa 20 giorni. Quindi c'è una differenza, c'è qualcosa che non torna. Però la memoria può, all'età di vigilanti, chiaramente trarre in errore ogni tanto, può capitare. Non parlai, se lo avessi fatto sicuramente dopo mi avrebbero ucciso i miei. In un'intervista che ha rilasciato alla Nazione il 26 luglio 2017, il giornalista gli chiede quanti Viet Minh ha ucciso durante la guerra in Indocina? E lui risponde molto placido, non li contavamo, ma credo centinaia, almeno 300 o 500. Dopodiché, interrompimi quando vuoi, Emanuele senza problemi. Io vado avanti, ma se hai qualcosa... Error rambito. Grazie. Si congeda nell'agosto del 1957 e fino a luglio del 1958 resta a Marsiglia. Resta a Marsiglia a far cosa? Ce lo dice sempre in uno degli articoli, in una delle interviste che ha rilasciato alla Nazione il 26 luglio 2017. Per rompere, volevo chiedere una cosa. Prima di entrare in legione, quindi il nostro signore è del 30 se ho capito bene, quindi fino al 1953, lui i primi 23 anni della sua vita li trascorre, immagino, a Caselle, a Vicchio di Mugello. Più o meno. Tu hai accennato a qualche piccolo guaio con la giustizia, cose che ti poco conti. Piccoli reati che non ho specificato volutamente perché non vorrei fare gossip, nel senso sono anche dettagli della vita di un novantenne. Intima. Certo. Sì, sinceramente sì, ora nel senso non me la sono sentita di raccontare nello specifico che cose è accadute in quegli anni. Cose di poco conto comunque, cose che possono essere successe a tutti quanti noi, magari abbiamo rubato una merendina o... Non proprio a tutti quanti noi, però direi che niente di grave, non ha fatto rapine in banca, e non si è macchiato di crimini così gravi, ecco, perché comunque il periodo di detenzione è limitato a 30 giorni, un mese e mezzo, piccole cose, niente di sé. Ma per caso lui ricevette a un certo punto anche un foglio di via da Firenze, cioè che vuol dire tu qui a Firenze non ci devi venire più? Sì, sì, ha avuto anche di questi fogli di via, più di uno mi pare di ricordare. Due. Ma, cioè, che è con... Si torna, si torna... Ho capito, ho capito. No, preferisco, insomma, ma anche perché, anche perché nel senso alla fine questa persona ha subito degli anni lui e la sua famiglia non propriamente facili, che non auguro a nessuno. Adesso, insomma, aggiungere anche del... Certo. Degli aspetti, sì. Io devo domandare, poi tu, giustamente... Ci mancherebbe, lo capisco. Però, come mi disse una volta Roberto Savigno, richiede delicatezza. No, lo sai che cosa? Secondo me questi aspetti della sua vita non contribuiscono a fornire un profilo più interessante rispetto a quello che accade dopo. Quindi, cioè, tutto sommato possiamo in tutta tranquillità trascurarli e andare avanti. Ecco, personalmente, è un giudizio personale. Che lavoro faceva in quegli anni? Se ne aveva uno? Non si sa esattamente cosa faceva finché non arriva a Marsiglia, in cui pare che abbia aperto un locale tipo nightclub con spogliarelliste, insieme a altri due ex legionari. Nell'intervista della Nazione... Legionario non sono quelli della vecchia Roma, no? Sono un po' più moderni. Ma che fanno questi legionari oggi? Cioè, chi sono? Sai meglio te, che sei appassionato di questo genere di cose. Io ne so... No. Non ricordo. Un po' più di me. Non ricordo, ma erano dei mercennari. Quindi, diciamo, non erano forze di pace. No, decisamente no. Insomma, abbiamo detto che uccidevano dalle 300 alle 500 persone, quindi... Ho capito. Quindi... Soldati, retribuiti per... Però io... Ho capito una cosa. Cioè, io se nasco in Italia, come faccio a finire nella regione straniera? Cioè, io mi ricordo quella trasmissione, quella pubblicità della Telecom, che c'era quel comico con i baffi, che a un certo punto finiva davanti a un poltone di esecuzione proprio della regione straniera francese. E lui diceva, voglio fare una telefonata, una telefonata lunga la vita e bra bra bra. Era Lopez? Eh, esattamente, quello lì. Era Lopez. Era Lopez. Ma, quindi, i legionari stranieri erano, giusto per solidificare l'idea nella mente dei nostri ascoltatori, erano vestiti un po' come quelli della pubblicità di Lopez, della Telecom... Sì, dalle foto che si vedono di vigilanti, più o meno erano, sì. E quindi, se ho capito, se tu eri non francese, quindi italiano, tedesco, brasiliano, russo, di quello che vuoi, e volevi trovare, che ne so, un lavoro, no? Magari che dovevi fuggire dal tuo paese perché c'era una domanda di cattura. Era l'unico posto dove tu andavi a Marsiglia, presentavi domanda di arruolamento e, se eri idoneo, loro non facevano troppe domande. Ti arruolavano, però, ovviamente, questo corpo speciale francese, che aveva, se ricordo bene, tre reggimenti, perché era una struttura ternaria, dopodiché, ovviamente, non è che andava così a fare le gite in Corsica, li mandavano nei punti più caldi e quindi loro difendono fino all'ultimo uomo di MB&P, che è la famosa evacuazione in elicottero. Poi, durante la guerra franco-algerina, anche lì, mi sembra che sono schierati in prima l'India, quindi sono persone che, tra l'altro, la regione è l'unità che ha il più alto tasso di caduti nelle sue fila. Certo, vedi che ne stai più di me. Ah no, ma queste sono cose che ho letto poc'anzi. Mi pare che all'interno della regione straniera, nel tempo successivo alla Seconda Guerra Mondiale, la nazione che ha fornito più, diciamo, legionari, è la Germania e la seconda è l'Italia. Dopodiché, se non avevi alternative, in effetti era un ottimo sistema per poter barcare il Lunario. Certo, ma ti faccio una domanda, quindi, praticamente, lui ha un po' la guerra dentro? Questo ci vorrebbe uno psicologo, ci vorrebbe qualcuno che facesse una perizia in tal senso, ecco, io non l'ho conosciuto di persona. No, mi permettevo di chiederlo, perché se a vent'anni, così giovane, va oltre confine ad arruinarsi nella regione straniera, va bene i guai, ha rubato qualche bicicletta, qualche sciocchezza così, però non giustifica, cioè, devi anche avere un forte desiderio di far parte di un corpo militare e poi, eccetera, eccetera. Probabilmente gli piaceva comunque l'ambiente, sì, può darsi, anche perché, insomma, la sua passione per la destra, per un certo tipo di ideologia, ecco, nel senso emerge anche successivamente, quindi ci sta, però nel senso era anche molto giovane, io non so ora quando si è arruolato, se avesse le idee così chiare o se fosse semplicemente uno sbandato, ecco, una persona che non aveva idea di che cosa valesse la pena, su cosa valesse la pena investire, su cosa valesse la pena dedicarsi, ecco, questo io non lo so, non è scritto da nessuna parte e non è stata richiesta una perizia in tal senso, ecco, non si può dire, si può fare delle congetture, augurandosi che qualcuna di queste, come diciamo sempre, sia corretta, però non abbiamo dati concreti. Ecco, io faccio fatica a parlare di questa storia e delle persone che fanno parte di questa storia, abbraccio perché mi pare un po' irrispettoso nei confronti di chi l'ha vissuta e quindi sono molto rigido su quelli che sono gli elementi che ho e mi riesce difficile immaginare o comunque fare speculazioni, fare troppa fantasia, ecco, mi riesce difficile, mi perdonerai. Certo, diciamo che quindi Giampiero inizia questo percorso, mi pare che lui poi si congedi con il grado di sergente, e quindi è un NCO, è addetto alla mitragliatrice e quindi ha anche una certa formazione sulle armi pesanti, sul lanci dietro le linee, parla sicuramente almeno due lingue a parte il francese e non è sicuramente uno sciocco, è una persona che ha fatto del suo meglio perché poi ricordiamoci che lui ritorna, ritorna sano e salvo e però non torna in Italia, ma si ferma a Marsiglia. Si ferma a Marsiglia fino a luglio del 1958 e nell'articolo, nell'intervista della Nazione che citavo prima, del 26 luglio 2017, lui dice, ho lavorato a Marsiglia, ho aperto un locale tipo un night club, andò male, c'erano contrasti con due arabi che ci ricattavano e fumo costretti a farli fuori. Ecco, questo è già abbastanza indicativo. Ma le fuori sono che ne hanno fatti uscire dal locale? No, non credo, sinceramente credo che abbiano risolto il problema in modo molto più netto e definitivo. La cosa curiosa è che racconta sempre di queste scene di violenza, di queste situazioni non proprio convenzionali che non capitano almeno adesso così frequentemente, con una totale tranquillità come se fosse all'ordine del giorno eliminare chi si frappone fra te e l'obiettivo che ti sei posto. E questo è abbastanza particolare. Non è l'unica persona che ho conosciuto che è così, ci mancherebbe. Però, insomma, questo personaggio ne ha diverse. Sì, io mi permetto di dire a difesa del signor Vigilanti che non è qui con noi stasera, ma che se ci vuole chiamare è sicuramente il benvenuto. Probabilmente nel momento storico in cui egli è nato e nel contesto geografico e culturale in cui è cresciuto, questi erano i valori, era comunque un momento storico di Sicile. Economicamente non c'erano gli agi di oggi, quindi probabilmente ha ricevuto un'educazione un po' rigida e poi sai che vai nella regione e non è che torni ma moletta. Sicuramente no. Se torni è già un ottimo risultato, direi. Vado avanti... Gli arabi hanno... Cioè, è certo che gli arabi sono stati... È certo, non ci sono indagini su questo periodo della sua vita. Ecco, nel senso, non si sa se poi è una smargiassata o se in realtà è avvenuta realmente questa cosa. Lui la racconta... Il nightclub di Marsiglia, come si chiamava? Non ce l'ho il dato adesso. Non ci sei mai stato. Non ci sono mai stato. E quindi, dopo questo nightclub, quindi, quanto tempo sta? Poco, perché comunque si congeda nell'agosto del 1957 e fino a luglio del 58 resta a Marsiglia. Dopodiché rientra in Italia, conosce la donna che gli darà due figli e che sposerà nel gennaio del 62. Per cui, poi, dopo risiede per alcuni mesi a Firenze, abbastanza vicino al centro. Si trasferisce a Vaiano e poi si stabilisce... A Vaiano? A Vaiano. Ora ci torniamo, che so che ti piace la zona. Non so dove si è. Ma l'hai già sentito nominare. Quindi si stabilisce nella zona del cantiere a Prato, dove ha vissuto fino al gennaio del 2019, quando, a seguito di maltrattamenti, di una denuncia per maltrattamenti alla moglie, il PM ha richiesto ed ottenuto dal GIP il divieto di avvicinamento. E' interessante questo Vaiano, che esce fuori così, con una certa sorpresa, perché a Vaiano ha abitato un altro dei grandi protagonisti di questa vicenda, della vicenda del mostro di Firenze, Salvatore Vinci. In realtà, fra i due... Aspetta, aspetta, aspetta. Salvatore Vinci, che è il fratello di Francesco Vinci... Di Francesco Vinci. Inizialmente inquisito, come mostro, e poi prosciolto. E Francesco Vinci e Salvatore Vinci sono i due fratelli sardi che avevano avuto, insieme al terzo fratello, Giovanni Vinci, una relazione con Barbara Locci, in epoca precedente al di lei matrimonio con Stefano Mele. Poi le malingue dicono anche dopo, quindi ho capito. Quindi Salvatore Vinci abitava a Vaiano. Abitava a Vaiano e in realtà c'è un mese di differenza fra quando Vigilanti viene via da Vaiano quando Salvatore invece prende la residenza, perché Giampiero Vigilanti risulta residente in via Braga a Vaiano fino al 30 giugno 1966, poi si trasferisce al cantiere, mentre invece Salvatore Vinci prende la residenza in via 25 aprile a Vaiano dal 28 luglio del 66. Quindi c'è questo mese di scarto. Niente dieta di pensare che magari Salvatore Vinci vi abitasse anche prima e abbia preso la residenza successivamente. A tal proposito lo stesso Vigilanti, nell'intervista della Nazione che dicevo prima, riferisce sì, eravamo vicini di casa a Vaiano, ma non ci parlavo, lo conoscevo di vista, mi sembrava violento. che detto da uno che aveva tirato una bastonata in testa a Pacciani e aveva fatto fuori… La legione di Viet Minh, direi che… E' abbastanza curioso. L'altra cosa curiosa che secondo me è interessante osservare è che chiaramente questo genere di domande gliele fanno perché è sotto i riflettori della procura questa persona, vigilanti fin da queste indicazioni che fornisce, anziché allontanare eventuali personaggi che hanno avuto a che fare con la vicenda del mosso di Firenze da molto vicino, dice in tutta tranquillità che eravamo vicini, ci si conosceva, non ci parlavo, se io volessi allontanare da me certe attenzioni magari direi, non so chi è, tanto alla fine nel senso non è che avessero questo rapporto per cui qualcuno poteva dire sì, io li ho visti, sì, si sono frequentati, quindi l'utilità di questa dichiarazione è pressoché nulla. E' sincero perché in fondo poi l'APG sarebbe andata a controllare e l'avrebbe scoperto. Sì, è sincero ma è la prima di diverse dichiarazioni di vigilanti che fanno sì che se uno non ha idea inizia a sospettare di qualcosa, è abbastanza curioso come atteggiamento, solo questo è curioso, non voglio dire che avesse dei motivi reconditi o diversi, però per esempio… No, no, scusami. In effetti è strano questa presenza di questi due signori, uno arriva e l'altro se ne va, ma per caso stavano nella testa casa? No, 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 ma ci sono 900 metri di distanza mi pare. Vaiano è piccolina, no? Sì, no, a Vaiano sono veramente una fila di case una dietro l'altra, quindi è proprio la strada principale. Perfetto. Dove va a finire dopo questa strada? È a fondo cieco? Finisce in Calvana? No, 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 credo che prosegua, non l'ho mai fatta, quindi non ti so dire, mi chiedi dettagli troppo specifici, cioè io da questo punto di vista sono, come mi dicono sempre, un topo da biblioteca, nel senso che con le carte dalla mattina alla sera mi ci passo le giornate e mi finisco gli occhi, poi quando si tratta di fare sovralluoghi, cose così, anche per i motivi che ti dicevo prima, non sono molto in forma, ecco non mi si addice molto, mi riesce un po' difficile. Vabbè, facciamo credere questo e poi magari raccontiamo di quell'episodio sul tram. Ma volevo chiederti una cosa, qui a Baiano, che Baiano è provincia di Prato, giusto per dare ai nostri telespettatori un'idea di come siamo, quindi nel 66 arriva Vigilanti, il, chiedo scusa, arriva Vigilanti nel, ho fatto confusione, praticamente c'è 28 giorni di vuoto, quindi Salvatore Vinci arriva a luglio del 66, mentre Vigilanti è andato via il 30 giugno, quindi 24 giorni prima, ma a Baiano per caso, che quindi è un posto molto piccolo, molto decentrato, molto fuori mano, lavorava, c'era un carbonizzo? Ho sentito un rumore strano, era in tedesco il rumore? No, non era in tedesco, ci arrivavo lì perché in pratica ci torna utile anche per quest'altra cosa, nell'aprile del 64 Vigilanti viene assunto in una delle tante filature a pettine nella zona di Baiano, in un verbale del 12 giugno 2014, infatti Vigilanti dice sì sì, ho lavorato in una di queste filature a pettine e dice anche quella di Rolf Reinecke, chi è Rolf Reinecke? Rolf Reinecke è una delle persone che abitava alla spacciata. Ma ci fate una domanda? Eh certo che sì. Ma chi è Rolf Reinecke? Ah ecco, perfetto, grazie per la domanda è esattamente quello che volevo dire. Rolf Reinecke abitava a Villa La Spacciata ed è colui che si accorge del duplice omicidio di Giogoli, quindi dei due ragazzi tedeschi, personaggio abbastanza particolare, aveva delle armi che deteneva non proprio regolarmente, aveva questa filatura a pettine, vigilanti anche in questo caso, come dicevamo prima, nessuno gli chiede niente ma dice sì sì, lavoravo proprio per Rolf Reinecke, fanno le indagini e anche questa affermazione risulta non veritiera perché in realtà hanno trovato la filatura a pettine presso cui aveva lavorato vigilanti e non era quella di Rolf Reinecke, che mi pare se non sbaglio fosse alla briglia, non proprio a Baiano. Ora non vorrei sbagliarmi, vado proprio a memoria. È l'ennesima dimostrazione in cui lui, pur essendo un presunto innocente, fa di tutto per attirare su di sé dei sospetti. Tu mi stai dicendo in poche parole che Vigilanti va a vivere a Baiano e che a Baiano fino a poco tempo, prima c'era Salvatore Vinci, no scusa il contrario, sono io che faccio connessione, e però oltretutto lui avrebbe lavorato in una filatura a pettine, in un carbonizzo di cui noi non conosciamo il nome, se lo conoscessimo non lo diremmo, che però è del Reinecke, è il Rolf Reinecke, quindi sarebbe questo tedesco di Germania, che non è l'amico di Lotti, ma che è questo signore ormai deceduto, che se ricordo bene venne in Italia per conto dell'azienda del padre, conobbe poi la signora che diventerà sua moglie e decidono poi di convolvere a nozze, di mettere su famiglia e a un certo punto poi le cose vanno un po' come vanno e il Rolf va a vivere proprio in una dependance o in un appartamento a Villa La Sfacciata, la cosa singolare è che nell'83 lui è tedesco e lì di fronte vengono uccisi i due poveri ragazzi tedeschi, ma questo non vuol dire niente, no? Una delle tante coincidenze in questa vicenda, perché ci si potrebbe scrivere più di un libro solamente sulle coincidenze che si trovano leggendo di questa storia, sì, è abbastanza particolare, lui dice nel verbale mi fermai a vedere il furgone di questi ragazzi perché avevano la targa del mio paese, ecco, questa cosa è abbastanza singolare. Ah, del suo paese che vuol dire? Della Germania o proprio, io ne so, di Firenze, di Milano? Dice così, dice del mio paese, nel verbale, credo della Germania, ecco, nel senso. Ma non gliel'hanno chiesto? No, può darsi che non lo sappiamo, no, no, questo ci manca. Ma questo rene che era un tipo per caso alto, grosso, gli piaceva la caccia, cani, pistole, e non solo la caccia, no, diciamo che si trovava bene in Toscana, ecco, mangiava e beveva bene, quindi gli piaceva mangiare e bere bene e non solo. Mangiare bene e camminare, fare delle belle passeggiate sulle vie del piano. A un certo punto, però, lui se ne va, perché tutta una serie di cose non vanno esattamente come si aspettava. E parleremo magari in un'altra puntata. Eh sì, anche perché qui è lunga, perché poi sarebbe un bel collegamento con la Ghiri Belli, con, insomma, con un sacco di cose, ma diventa un po' complicato da stare tutta in una sera. Certo, e dovremmo tenere qui almeno fino a mezzogiorno, invece noi all'alba dobbiamo interrompere la diretta. Ma no, non so neanche se qualcuno poi ha tutta sta voglia di ascoltarci per così tanto tempo. Ah, secondo me sì, secondo me sì. Sei ottimista. Ma, ok. Scusami, eh. Io, Avaiano, Carbonizzo, Filatura a Pettine, ma non è che Stefano Baldi lavorava da quelle parti? Questa cosa non è stata accertata. Quindi potrebbe essere una di quelle leggende del web che uno inizia a dire, io conoscevo Stefano Baldi, ero vicino di Banco di Susanna Cambi e poi… Può darsi, può darsi. Nell'ultimo procedimento questa cosa non è stata accertata, non c'è. Quindi sarebbe una storia acefala. Dovremmo chiedere al Dibe, che magari il Dibe ci… Sì, ma più che al Dibe si potrebbe chiedere agli amici di Susanna Cambi e Stefano Baldi, che insomma hanno un'età che insomma ancora possono essere interpellati su questo aspetto. Certo. Insomma, la di dubbi. E Stefano Baldi prima studiava medicina a Firenze. Sì. E Caccamo è medico. Sì. Tu vuoi fare dei collegamenti un po' troppo maliziosi. No, 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 perché erano così… Cioè, ma Caccamo ha fatto il medico da subito o prima ha fatto, che ne so… Prima faceva il medico generico e poi dopo diventa odonto tecnico. Sì, però di Francesco Caccamo se ne parla perché Vigilanti in più di un'occasione lo ha tirato dentro facendo delle affermazioni gravi essenzialmente, però di concreto su questa persona non c'è veramente niente. Ecco, nel senso, quello che Vigilanti ha detto riguardo a questa persona si è sgonfiato abbastanza velocemente perché non c'è niente di concreto. Ecco, l'ho detto prima, lo ripeto. L'unica cosa che può riuscire… La posso anticipare, vabbè, la diciamo dopo, lasciamo un po' di suspense. Almeno andiamo lineari e magari non ci perdiamo per strada. Certo. Porniamo a Vaiano, che è su questa briglia, su questa strada periferica, salutiamo gli amici di Prato e della Calvana, periferica nel senso rispetto di Vaiano e della Briglia e compagnia cantante, è solamente periferica rispetto ai del mostro, cioè non è via di Mosciano, è un po' sganciata, però abbiamo una serie di personaggi. E dopo che ha lavorato per questa filatura… Ecco, cosa succede dopo? Succede che la Nazione Cronaca di Prato pubblica per quattro puntate, se non ricordo male, quella che è la storia del legionario vigilante, dove vengono raccolte le gesta di questo… Quindi ci hanno preceduti. Ci hanno di molto preceduti, ma secondo me è un po' diverso il tono, cioè noi facciamo una cronistoria molto neutra volendo, invece lì c'era una certa enfasi, era una sorta di romanzo, le imprese di questo legionario pratese, no in realtà era ancora del Mugello che andava a combattere il senso della patria, tutte queste cose, l'ho trovato un po' eccessivo come racconto sinceramente. Però ci sta anche che per interessare, per rendere più appetibile il racconto si ecceda su certi tasti. Cosa capita dopo? Che dal 1972 al 1979 Gian Piero Vigilanti è al dipendenza della società Ofisa, onoranze funebri, per poi congedarsi nel 1980 quando inizia a percepire una pensione di invalidità dall'Inps. Cosa succede? Cosa succede? Lui ha fatto il legionario sotto ufficiale alla mitalliatrice, poi è tornato in Italia, lavora alla filiatura a pettine e poi va a fare onoranze funebri. Colui che guida l'auto e si occupa dei calaveri nel momento in cui chiami un'agenzia per gestire tutte le pratiche relative alle onoranze funebri. Quindi è per caso quello che abbiamo visto nel film? In Amici Miei c'è una scena in cui si vede, almeno questo lui ha riferito, io non sono riuscito, ho guardato fotogramma per fotogramma ma non l'ho riconosciuto, l'autista dell'auto parrebbe essere Gian Piero Vigilanti, ha fatto anche l'attore, più che attore comparsa non più senza… Ah c'è una domanda cattivella, ma oltre a Vigilanti in quel film, per caso c'è anche Allegranti? Non l'ho mai sentito dire da nessuno, risulta nel cast? Hai guardato se come… No, no, è un dubbio che mi è sempre venuto e che ho sempre avuto e quindi ho deciso di esternarlo con… Ma perché Allegranti faceva la comparsa per film per questo… no, non si sa, non si sa, vabbè. Io questo non lo so, però c'è una somiglianza, ecco, con questo non vogliamo dire niente, magari anche Allegranti era di vicchio, Allegranti lavorava, diciamo che aveva, prestava attività di volontariato nella misericordia, portava le ambulanze, magari sai, dove va un'ambulanza di solito c'è qualcuno che non sta proprio bene e se dopo che non sta bene sta peggio può darsi che si va a chiamare anche quell'altro, magari si sono conosciuti, sono diventati amici, sono visti di Vicchio del 37, io del 30, ti ricordi quando andavamo a scuola lì a… non mi ricordo come si chiama la scuola, comunque la stessa di Miranda, e magari da lì hanno deciso di farsi questa giratina insieme, questo film insieme, ecco. Magari di Bernardo, che lui smametca tanto con il software di riconoscimento facciale, così non andiamo a disturbare ancora una volta l'NSA, ci potrebbe dire se effettivamente i due erano membri partecipi di questo film? Va bene, c'è una cosa che accade prima del 72, quindi nel 71, quando Gian Piero Vigilanti acquista un'auto, quest'auto sarà abbastanza significativa, una lancia Flavia Rossa dal cofano ed il bagagliaio di colore nero, che detiene fino al 1986. C'è una dichiarazione che rilascia al Gazzettino del Chianti, che l'ho intervista, in cui lui riferisce, ho posseduto una lancia Flavia Rossa, se fa riferimento alla macchina rossa vista a Vicchio prima del delitto di Pierontino e Claudio Stefanacci, può essere anche la mia, lì a pochi passi dalla piazzola abitavo mia madre, a trovarla ci andavo in macchina. Un'altra volta, come dicevamo prima, cerca di attirare su di sé dei sospetti, che è anche quando non ce ne sarebbe affatto motivo, nel senso, è l'ennesima volta che un presunto innocente si dà veramente da fare per risultare colpevole alla fine, perché, nel senso, perché devi dire che la tua auto è stata vista contemporaneamente alla commissione di un omicidio? Tra l'altro, quell'auto fu poi individuata, apparteneva ad un pescatore e non aveva niente a che vedere con la dinamica e con l'omicidio di Pierontini e Claudio Stefanacci. Cioè, tu stai dicendo, l'auto rossa con cofano nero vista dal famoso testimone, forse era il Pistoiese, a Vicchio, alla fine si scopre essere di un pescatore, ma contemporaneamente, perché vigilante questo non lo può sapere, e gli dichiara, ricorda, quella macchina era la mia. Si, dice, se l'avete vista, quella macchina era la mia, che motivo c'è di dirlo? Sembra quasi di volersi accusare di qualcosa, prima ancora che qualcuno lo additi di qualcosa, nel senso, tra l'altro, questa era un'intervista ad una rivista, ad una pubblicazione, che motivo hai di dire una cosa così, è curioso, no? Come aspetto. La stessa auto, una stessa, un'auto rossa viene vista anche la notte del duplice omicidio delle Bartoline, quindi sempre Calenzano, un'auto rossa, quindi non l'auto di Gian Piero Vigilanti. C'è un appunto dei carabinieri del 27 ottobre 1981, relativamente ad una circostanza che è riferita da due testimoni che si trovavano a passare sul ponte sulla Marina. Sono abbastanza note le due persone, Rossella P, io non dico i cognomi perché magari non vogliono essere nominati, e Gian Paolo T. Il verbale relativamente a queste dichiarazioni inizia così. La sera del 22-23 ottobre 1981, mentre rientravamo da Calenzano le Croci, per accorciare la strada, passavamo per Travalle, giunti al ponte che divide le strade con via dei Prati e quella che porta all'incrocio del nome di Gesù, verso le mezzanotte e trenta, incrociavano un'Alfa Romeo GT di colore rosso chiaro, che proveniente dal senso opposto di marcia, impegnava il predetto ponte a forte velocità, tanto che il ragazzo che guidava la sua auto era costretto quasi a fermarsi per evitare la collisione. In quel preciso momento gli puntavano i fari nel viso e potevano scorgere che l'uomo che era alla guida dell'Alfa Romeo GT poteva avere 45-50 anni, stempiato, viso rotondo, quasi senza capelli, con occhi grandi e scuri e sembra che vestisse di scuro. Il cofano anteriore della macchina, di colore più scuro, sempre rosso, sono stati eseguiti identikit e fotofit. Questo è abbastanza famosa insomma come dichiarazione anche perché poi appunto il principale identikit che gira del mosso di Firenze fu realizzato grazie alle indicazioni di queste due persone. E' vero che ce n'è più di uno di identikit dell'uomo visto a Canzano? Ce ne sono, sì, ce n'è più di uno, è vero. Ne è stato diffuso uno dalla stampa essenzialmente però ne fu fatto più di uno. A me ne risultano tre, due identikit e un fotofit. Fotofit, esatto. Però è strana questa cosa, cioè Stefano Baldi a quanto pare ha lavorato alla Briglia di Vaiano, abita a Travalle, la fidanzata Susanna Cambi, la mamma ha un negozio che se ricordo bene è in via Faenza, dalle parti di Piazza Valfonda. Sì, sì, è vicino alla Fortezza, l'abbasso. Ecco, abbiamo la Fortezza che ritorna, via Valfonda che ritorna, ho capito. Ma, e quindi, però alla fine vicinanti mi si fa di capire che lui ha lavorato fino a 49 anni. Ha avuto sicuramente una vita intensa perché all'epoca i vecchini, i vecchini chiedo scusa, le persone che si occupavano delle salme lavoravano anche di notte, quindi magari venivano disturbate nel cuore della notte, quindi un lavoro stressante. Ha avuto poi sicuramente degli anni difficili anche nella buca che gli hanno scavato i Vietmin, poi in Algeria, poi con gli Arabi a Marsiglia, insomma, anche prima la Fortezza mi sembra che non andava tutto rose e fiori. Magari a 49 anni ha deciso di mettersi in pensione, ne ha avuto la possibilità e magari si è ritrovato con un po' di tempo libero, un po' di noia magari. Infatti subito dopo, nell'ottobre 84, acquista una pistola, una high standard calibro 22, di cui accenna in un verbale del 16 settembre 85. Non sono cacciatore, leggo un pezzettino, due righe, non sono cacciatore e ho come unica arma la pistola calibro 22 che voi avete visto, da me acquistata nell'ottobre 84, utilizzata presso il poligono di tiro. Sono andato a sparare al poligono di Prato nel mese di luglio, prima che questo chiudesse per ferie. Prima dell'acquisto della pistola mi recavo presso il poligono esercitandomi con le pistole in dotazione al citato ente. Prima di questa pistola non ho mai posseduto altre armi. E la turca? Dopo lo dice. E' interessante perché dopo in realtà si contraddice. Prima di questa pistola non ho mai posseduto altre armi, facendo riferimento al periodo da quando sono in Italia, perché chiaramente quando faceva il legionario le armi le aveva. Però non erano sue. Questo è alcun dubbio. Nel senso, no? Però non erano sue. Non le ha prosedute e le ha detenute e utilizzate. Sì, sì. Contemporaneamente c'è la prima perquisizione presso l'abitazione di vigilanti, sollecitata da tutta una serie di motivi. Vigilanti non ha niente a che fare con la storia del mostro, fino al 16 settembre 1985, quando qualche giorno dopo il delitto degli scopeti, il maresciallo Amore, nucleo operativo di Prato, che ha appena sentito un altro personaggio molto interessante, dice, col tenente Fighiera, dice vado però sotto a vigilanti perché è uno che va in giro di notte col cane, fa orari strani, non si capisce mai che fa, lo va a sentire. Quindi il motivo per cui vigilanti entra, tutto sommato, nelle indagini, nonostante la macchina rossa di Vicchio, nonostante la macchina rossa col cofano nero di Travallo di Calenza, non pare che non se ne sia accorto nessuno che lui aveva quella macchina lì. Ma il maresciallo Amore a un certo punto dice, ma vuoi vedere che questo qui è più interessante di quanto non si pensa, è più interessante di quella guardia giurata che adesso gli stiamo col fiato sul collo? E allora mollano la guardia giurata e vanno sul legionario. Inizia questa perquisizione presso la casa ubicata al cantiere di Giampiero Vigilanti e il verbale inizia in modo abbastanza indicativo rispetto a quello che erano le intenzioni. Alle ore 7.30 di oggi, 16 corrente, ci siamo portati presso l'abitazione di vigilanti Giampiero, in quanto il predetto da accertamenti svolti poteva identificarsi nel noto mostro di Firenze. Non è che vanno tanto per il sottile, quello cercavano essenzialmente. Nel corso dell'operazione viene rinvenuta chiaramente la pistola calibro 22i standard di cui dicevamo prima, ma anche tutta una serie di giornali relativi alla vicenda del mostro di Firenze. Quindi ci sono articoli di giornale relativi a Piero Mucciarini e Giovanni Mele che erano stati indicati come mostro di Firenze, ma anche relativi alla strage mafiosa neofascista avvenuta il 26 dicembre 1984 presso la Galleria dell'Appennino ai danni del treno rapido 904, articoli relativi alla tragedia dell'Aisel, nonché notizie relative al delitto degli scopesi. Probabilmente devono essere rimasti un po' perplessi coloro che hanno partecipato a questa perquisizione, tant'è che viene richiesta una perquisizione anche presso l'abitazione della madre di Gian Piero Vigilanti, residente a Vicchio di Mugello, a Caselle, come dicevamo prima. Anche perché lo stesso Vigilanti dice di frequentare molto l'abitazione della madre. E qui vengono fatte degli accertamenti, vengono trovati anche qui dei ritagli di giornale, secondo me anche più interessanti rispetto a quelli che vengono trovati a casa di Vigilanti, al cantiere. Vengono trovati degli articoli di giornale relativamente all'uccisione di Clelia Cuscito e Giuseppina Bassi, che sono due delle quattro prostitute che dall'81 all'85 vengono uccise a Firenze. Sono i cosiddetti omicidi collaterali, che però secondo me tanto collaterali non sono, perché hanno ben poco a che vedere con le dinamiche omicidiarie del mosso di Firenze. Giuseppina Bassi, per caso era quella l'ex ballerina modella che stava con lo spacciatore di Prato? Sì, sì. Vengono trovate notizie relativamente al duplice omicidio di Claudio Stefanacci e Piarontini, e quindi l'omicidio del 1984, ma soprattutto viene trovato un articolo del 17 settembre 1974 relativo all'omicidio, il secondo duplice omicidio del mosso di Firenze, ai danni di Pasquale Gentilcore e Stefania Pettini. Perché dico che è interessante? Perché... Ho capito dove vuoi andare a parare. Allora non lo dico. No, 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 ho capito, però ti chiedevo, spiega bene questa cosa e noi ti ascoltiamo. Non so se sono in grado di spiegarlo bene, però diciamo che si riuniscono tutti gli omicidi del mosso di Firenze dopo il delitto di Baccaiano, nel senso era rimasto scoperto il 68. Il 74 era abbastanza distante rispetto all'81-82, che una persona abbia messo da parte fin dal 1974 un articolo relativamente agli omicidi del mostro è una cosa singolare, voglio dire questo, almeno singolare. C'è da dire che era avvenuto a Borgo San Lorenzo, quindi in una zona molto vicina a quella dove lui abitava e quindi probabilmente era anche interessato da questo punto di vista. Infatti lui nel gerbale che fu redatto successivamente alla perquisizione dice, io normalmente i giornali dopo averli letti li butto via, mia moglie invece quando vi sono notizie particolari è solita conservarli, in particolare ha conservato i giornali che hanno parlato del duplice omicidio di Vicchio, verificatosi nel 1984, in quanto essendo originario della zona conoscevo di vista la famiglia Stefanacci, magari essendo della zona conosceva anche qualcuno che aveva avuto rapporti con gentilcore e pettini, questo possiamo dirlo in tutta tranquillità. Posso fare una domanda stupida? Esistono domande stupide. Io invece sono specializzato in domande stupide, quindi me ne arrogo la paternità. Esistono risposte stupide, domande stupide non mi viene. Sei sempre troppo gentile. Ma le caselle, le caselle centrano qualcosa con la storia del mostro, cioè la frazione caselle? Allora, io ti conosco Emanuele, quindi so dove vuoi andare a parare, ma soprattutto ti conosco perché da quando ci frequentiamo, ci sentiamo e ci conosciamo, sei stata una delle poche persone che mi ha fatto notare tutta una serie di collegamenti che magari sfuggono ai più. No, tu sei troppo gentile, io… No, 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 non dico che questi collegamenti poi abbiano realmente a che fare con la vicenda del mostro di Firenze, però appunto anche come dicevamo prima, si fanno delle congetture, si fanno dei collegamenti nel tentativo di riuscire a dipanare un po' la matassa, che è sempre troppo complicata da comprendere. Sì, caselle è interessante, però io… Non ne possiamo parlare. No, non me la sento neanche di… come ti dicevo prima, cioè io sarò un po'… Io chiedo, poi tu, fai… Fai bene, fai bene, però sarò anche eccessivamente pragmatico, però mi riesce veramente difficile non attenermi ai soli dati concreti, perché sono talmente pochi in questa vicenda, ma davvero pochi, con Edoardo Orlandi che anche tu conosci e ti saluta… Lo diciamo spesso, lo diciamo spesso, in questa storia di certo ci sono i 16 ragazzi morti, il resto purtroppo è filtrato dai verbali, che è comunque per quanto può essere oggettivo un punto di vista e quindi lanciarmi in collegamenti un po' troppo arditi è una mia incapacità, ammetto questa cosa, perché nel senso è utile anche in certi momenti cercare di trovare delle cose che possano portare a una destinazione, però purtroppo in questo non penso esserci molto utile. Tu sei sempre molto intellettualmente onesto. No, 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 in realtà dico la verità, è vero, così. Allora, io però ti devo fermare, quindi bevi pure un paio di bicchieri d'acqua, anche una ritrata, perché ho sette domande per te, ma Vigilanti non aveva una pistola turca? Allora, di questa qui, però me l'ero segnata di parlarne dopo, perché a un certo punto accade qualcosa di particolare a queste pistole, quindi nell'occasione magari citiamo tutte le armi defenute dal buon vecchio Vigilanti. Ma, Gian Piero, prima di acquistare la Beretta calibro 22 High Standard nel 1984, che l'acquista di terza mano, mi pare di ricordare, lui non ha pistole. Questo è quello che lui dice inizialmente, poi in realtà aggiunge una dichiarazione successivamente che contraddice questa dichiarazione. Ricordiamoci sempre che parliamo di una persona che non è più giovanissima, a volte anch'io faccio fatica a ricordarmi che cosa ho fatto ieri e sicuriamoci quando avrò 90 anni e non mi ricorderò. Ma soprattutto, scusami se ti ho interrotto, averla, la verve che lui ha in quasi tutte le interviste che abbiamo visto negli anni in cui era sotto i riflettori della procura. Cioè, io sono rimasto più di una volta sorpreso perché, a parte l'assoluta tranquillità di avere a che fare con giornalisti, telecamere, sembrava veramente a casa sua una persona di spettacolo mancata. Meglio con le telecamere che con le formiglie rosse della buca di Saigon, no? Sì, sembra di dubbio, certo. Ma e quindi questa calibro 22 che compra nell'84, prima di chi era, lo possiamo dire o non si può? Diciamo dopo. Non diciamo. Eh no, perché se no… Ma questa calibro 22 può essere compatibile con i diritti del mostro? Questa high standard? L'ultima perizia balistica che è stata richiesta dalla procura della Repubblica di Firenze nel procedimento a vigilanti, lo esclude categoricamente. Dice che i bossoli espulsi ed i proiettili espulsi dalla high standard hanno delle tracce… Passa di rigatura. Esatto, un passo di rigatura ben diverso rispetto a quelle che rilascia una beretta calibro 70, che è quella indicata per essere l'arma del mostro. Ecco, e quindi anche il famoso proiettile, quindi la famosa palla trovata nel cuscino di Scopetti, quella che tanto l'avvocato Adriani voleva reperire, diciamo perché? Mica perché si era fissato quella palla, si era fissato, cioè giustamente lui diceva che quella lì, siccome non ha tramiti probabilmente ossei, probabilmente è integra, quindi abbiamo una bellissima rigatura sulla palla. anche quella lì non c'entra niente con la high standard, quella palla lì ci ha permesso di capire molto meglio la storia poi delle unizioni del mostro. Sì, senza ombra di dubbio. È una cosa curiosa questa perché nel 2012, lo dico non per fare promozione perché è un libro uscito otto anni fa, però quando abbiamo pubblicato il libro con Vieri decidemmo di scriverla questa cosa perché nel verbale di perizia autoptica del dottor Maurri c'è scritto proprio che presumibilmente un proiettile è ancora rimasto uno nel piumone ed uno nel cuscino e noi quando abbiamo letto questa cosa ci siamo detti ma come presumibilmente, non sono andati a vedere se all'interno del piumone e del cuscino è rimasto un proiettile. Quindi è anche colpa tua se hanno trovato il proiettile? Diciamo che l'Avvocato Vieri Adriani quando ha fatto l'esposto di cui parleremo successivamente questa cosa l'ha indicata e ricordo che il magistrato che si occupava delle indagini una volta all'Avvocato gli disse abbiamo avuto fortuna, fu anche per lui un momento di entusiasmo. direi che a volte come direbbe l'amico del Giampiero la fortuna ride… Premi Agliadash… Esatto… Mettiamola così… Volevo chiedere questa cosa, in occasione dell'attentato del 23 dicembre 1984 c'è per caso un pensionato che passando successivamente al delitto viene forse liquidato perché ha visto qualcosa? Tu mi fai questa domanda perché sai benissimo la risposta… No, io ignoro completamente di cosa stiamo parlando… No, 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 questa è una domanda suggestiva… Non possiamo parlarne… Come si dice… No, possiamo parlarne, però secondo me esula un po' da questa cosa e di storie da raccontare ne abbiamo ancora abbastanza, insomma io non so quanto… lo dico per voi, nel senso come dicevo prima è la mia passione, per me è come andare a giocare a biliardo, a giocare a calcetto… per cui ci sono persone che mi scrivono abbastanza… Ando velocissimo… Allora… E ti chiedo ma Pasquino Corso… No, scusate, facciamo finta che non ho fatto il nome… il compagno della Giuseppina Bassi… Sì… Correva in auto? Cioè può essere che… è vero che Giampiero Vigilanti correva in auto e andava al Mugello? Così si dice, così si dice, però allora una cosa curiosa, una cosa particolare riguardo a questa persona è che almeno personalmente, ma a leggere da quelle che sono le domande che gli fanno gli inquirenti, anche loro sono rimasti un po' sbalestrati, è che a un certo punto non si capisce più ciò che è vero, ciò che è avvenuto e ciò che avrebbe voluto che avvenisse e quindi… Tu già sei andato alla grazia di nuovo… Ma lì sono cose avvenute, qui lì si tratta di fatti veri… Certo… Io perdonami Francesco, ti faccio raccontare un po' dei frammenti e dopo ti fermo in maniera tale che mentre io ti faccio le domande il pubblico da casa ha tempo di macinare tutte le informazioni che tu stai dando. Poi ricordiamo che tanto la puntata è registrata, quindi se magari non tutto è fruibile l'immediatezza dei fatti, la si può riguardare poi con calma. Io ho visto la puntata che hai caricato, così intanto facciamo un po' un break, hai dedicato una nuova puntata a Mario Spezzi, hai un po' raccontato in un servizio giornalistico i fatti, schivando come la peste i commenti che invece gli pseudo giornalisti ne vanno matti. In questa puntata che tu hai dedicato a Mario Spezzi, che hai caricato proprio qualche giorno fa sul canale dedicato alla parte giornalistica della storia del mostro di Firenze, c'è una cosa che mi ha colpito particolarmente, la facilità con la quale tu parli di questi argomenti. E ne parli, no? Emanuele, scusami, comunicazione di servizio. È successo? È arrivato il caffè? No, in radio ci siamo, ma è caduto YouTube, perché ogni tanto loro hanno dei problemi. Ripartiamo fra qualche secondo anche su YouTube, eh? Ah, vabbè. Allora abbiamo fatto bene prenderci questa pausa a caffè. Esatto. Vai. Grazie. Grazie. In radio ci siamo. Ok. E quindi, praticamente, la cosa è questa. Io perché cerco di fermarti a volte? Perché tu sei un po' il maradona del mostro di Firenze. Cioè tu fai delle cose che per te sono normalissime, no? E le fai con disinvoltura, con grazia, con eleganza, una dietro all'altra, con una sequenza e una velocità da fare invidia a Pelé. Invece poi le altre persone, per stati dietro, no? Devono dire, no, aspetta, come a scuola calcio, no? Come ai pulcini che facciamo vedere tutto al rallentatore, no? Per insegnare il dribbling, lo stop, lo stop di petto, lo stop a seguire, la diagonale, eccetera. E allora io ti rallento un po', no? Ti mando in moviola per dare il tempo ai nostri amici da casa di capire di che cavolo stai parlando. E riguardando la puntata che hai caricato su Mario Spezzi, io invito tutti quanti a guardarla 3-4 volte, soprattutto la parte iniziale in cui Francesco ci dà quella mole di dati. Perché è molto interessante. Secondo me lui ha detto un sedicesimo delle cose che sa, e se noi ne capissimo almeno la metà avremmo capito uno spicchio importante di questa brutta storia. Ma volevo chiederti allora se il patron Bronzi dalla posizione generale di comando dell'Enterprise ci conferma che siamo tornati in onda sul tubo. Ancora un minuto. Ah, ok. Allora parliamo delle vacanze nel frattempo. Così ammortizziamo... Magari dammi tu il via così non perdiamo nulla e parliamo nulla. Appena sono pronto ti do l'ok. Comunque in radio ci ascoltano, eh. E lo so ma non vorrei che dopo perdiamo i contenuti di Francesco per i motivi che dicevamo prima, che dopo arriva quello che dicevamo, ma come mai hanno parlato della Pantera? Come mai sono andati a parlare di, che ne so, di Villa Cidro? Ci mancherebbe solo Villa Cidro, guarda. Sei mai stato a Villa Cidro? Che tu ti ricordi? No, non mi ricordo. No, neanche io. E volevo chiederti questa cosa qui. Quindi, facendo un po' un riassunto. Noi di vigilanti in realtà non abbiamo nessuna evidenza sino a questo evento dell'85. Nell'85 c'è un, un intervento del maresciallo Amore che ha notato la, diciamo, la presenza del vigilante di notte con il suo cagnolone. Eh, la macchina in qualche modo poteva anche aver avuto a che fare con precedenti avvistamenti. E dice, questo è un tipo sospetto, io intanto ricercarmi e lo vado a perquisire. A casa sua trovano dei giornali che tu ci hai detto, no? Sono riconducibili a questi fatti, bim, bum, bam. Passo una domanda, proprio entro a forbice. Ma per caso c'era qualche lettera che mancava ritagliata? No, in realtà no. No, no, no. Quindi va bene. Magari. Cioè, magari. Magari non per lui, però, magari perché almeno risolvavamo questo incredibile mistero che ci portiamo avanti dal 68. Ecco. Ci levavamo qualche dubbio. Questi giornali, certo, sono fatti, dicono anche che uno ha conservato. Sono così, suggestioni, via, mettiamola così. Ecco. Quindi, praticamente, fino all'85 questa è la storia. Quindi, nell'85 ci sono varie persone che vengono avvicinate, perquisite, sentite. C'è Pietro Pacciani, c'è Campiero Vigilanti, ci sono diversi metronotte, ci sono giornalai, edicolanti, capostazioni, ferrovieri, preti, guardie giurate, saltimbanchi e chi più ne ha. Ma c'è anche un, mi ricordo, un senzatista di Mora, un cartolaio. Emanuele, scusami. Ragazzi, scusatemi, siamo di nuovo in onda anche su YouTube, eh? A questo momento. Perfetto. Grazie. Perfetto, grazie Daniele. Prego. E quindi, nell'85, tantissimi vengono avvicinati da nuove perquisizioni, tra questi c'è anche i Vigilanti, quindi magari il mostro ha smesso perché in qualche modo gli inquirenti si sono avvicinati ai Vigilanti. E' la stessa cosa che dicono di Pacciani, no? Nel momento in cui le indagini si avvicinano a lui, lui smette di uccidere. Eh, tra poi… Sono 74, mi pare, i personaggi che vengono per la prima volta avvicinati da indagini dopo il delitto degli scopeti, quindi magari tra quei 74 c'è quello giusto, o magari il cugino, l'amico, il fratello, la sorella. E' quello che io mi auguro, sinceramente, perché ormai, insomma, l'ho detto e l'ho scritto più volte, spero che nelle carte ci sia il nome di questa persona. Come probabilmente si sarà intuito, faccio fatica ad immaginare Pietro Pacciani, Mario Vanni e Giancarlo Lotti sulle scene degli omicidi e quindi penso che per la legge dei grandi numeri questa persona… La vita! … sia stata probabilmente sfiorata dalle indagini, ma mai approfondita, quindi sì, mi auguro, ecco, nel senso, anche Nino Filastolo dice, ecco, prima o poi questa persona verrà fuori perché… … non può morire con un peso di questo tipo, magari, mi piacerebbe che fosse… … magari… … magari, esatto… … magari… … e quindi dall'85 e in poi dei vigilanti non si sente più parlare di mostro di Firenze… … non si sente parlare perché non ci sono più delitti… … e dopo che succede? Si sente parlare perché ci sono delle indagini in corso e perché il capo della SAM, Ruggero Perugini, ha chiaramente inquadrato un personaggio che sta a mercatale… … quindi, insomma, Pietro Pacciani, tutto quello che riguarda le indagini, dice, relativo a Pietro Pacciani, le perquisizioni… … viene rinviato a giudizio, sappiamo tutti com'è andata a finire poi quella storia… … insomma, condannato in primo grado, assolto in appello… … in attesa del nuovo giudizio di appello… … decede presso la sua abitazione… … però quello che io volevo affrontare in questo momento era il processo a Pietro Pacciani… … presso la Corte di Assisi di Firenze, presidente Enrico Gnibene… … il 12 luglio 1994, come dicevamo prima, viene sentito il maresciallo dei Carabinieri di Prato, Antonio More… … il dottor Amore riferisce su tre circostanze in modo particolareggiato… … ovvero la perquisizione a cui è stato sottoposto vigilanti, di cui dicevamo prima… … quindi il rinvenimento delle cartucce Winchester serie H… … ma anche il rinvenimento… … ho fatto un po' di casino scusate… … il rinvenimento in data 30 settembre 1985 di 30 cartucce Winchester serie H calibro 22… … in una strada che collega Poggio a Caiano a Carmignano… … il luogo dove furono trovate queste cartucce distava circa 200 metri dalla locale agenzia dell'Ofisa… … ed è una suggestione il fatto che i vigilanti avesse lavorato… … presso la medesima azienda di onoranze funebri… … via degli onoranze funebri… … esatto… … c'è poi un episodio… … sempre il maresciallo Amore racconta di un episodio relativo a una guardia giurata… … che si presenta presso il comando dei carabinieri… … e fece mettere l'11 settembre 1985… … quindi praticamente il giorno in cui fu scoperto l'omicidio di Scopeti… … e fece mettere a verbale… … nell'estate del 1981 mentre mi trovavo a sorbire… … curioso che gli abbiano fatto scrivere sorbire un caffè… … presso il bar… … sito nella località… … il nome di Gesù… … e vabbè ma i verbali dei carabinieri hanno sempre questo genere di licenze… … a Scalenzana… … il bar presso il nome di Gesù non è quello della strada… … si è vicino… … molto vicino… … venivo avvicinato da un tale che io non conoscevo e che stava bevendo una birra al banco… … questo tizio vedendomi in divisa si avvicinava a me… … e mi fece alcune domande sull'arma in dotazione che tenevo nella fondina… … per farmi capire che anche lui si intendeva di armi… … mi mostrò tre proiettili calibro 22 e long rifle… … piuttosto vecchiotti ed ossidati… … mi disse… … li vuoi… … tanto io a casa ne ho altri 5 o 600… … io li presi, li misi in tasca e me ne andai… … poi nel verbale questa guardia giurata descrive quella che… … quelle che sono le caratteristiche di questa persona… … che gli ha regalato mentre stava assorbendo un caffè questi proiettili… … cioè… … perdoni Francesco… … se ho ben capito… … tu ci stai dicendo… … guardate che fosse… … se il 16 settembre il marescial Lamore è andato a sentire i vigilanti… … è perché l'11 settembre la guardia giurata… … di cui non facciamo il nome… … anche… … anche per questo motivo… … questo era uno dei motivi… … in realtà… … vigilanti aveva anche delle segnalazioni… … ecco… … c'erano i vicini di casa che era stato segnalato… … per altri motivi… … spieghiamolo… … spieghiamolo ai nostri ascoltatori… … questa guardia giurata… … che è molto interessante… … ne parleremo nella nostra puntata poi del 28… … sarà dedicata praticamente tutta quanta a lui… … perché… … grazie a Francesco… … abbiamo avuto modo di avere finalmente un verbale pulito… … su questa… … su questa persona… … e abbiamo fatto una serie di approfondimenti… … e quindi Francesco ci sta dicendo… … questo signore… … che fa la guardia giurata… … l'11 di settembre… … quindi due giorni dopo il delitto degli scopeti… … va… … al nucleo operativo di Prato… … dove c'è il tenente Fichera… … e il marescial Amore… … e gli dice… … guardate che… … bim bum bam… … e questa persona… … che io ho visto… … quindi nell'estate dell'81… … dove… … nel bar presso Travalle… … perché siamo lì no… … via del Gesù… … la zona è quella… … dà una descrizione… … alto… … con pancia in fuori… … rossiccio… … si… … dice… … se non lo ricordo al 100%… … altezza 1,80m… … corporatura robusta… … con un po' di pancia in avanti… … le spalle più larghe delle mie… … viso abbastanza rotondo… … gote rossicce… … i capelli molto corti… … tirati indietro… … color biondo rossiccio… … senza barba… … e ne bassi… … non aveva occhi azzurri… … e non aveva cicatrici sul volto… … il collo normale… … era abbastanza stempiato… … accento verosimilmente toscano… … non accentuato… … cosa succede… … domanda… … che beveva sto signore? … non beveva niente… … mi pare… … non mi ricordo… … c'è un'altra occasione… … una birra… … eh no… … io mi ricordo l'intervista… … che gli hanno fatto… … gli amici di… … di Siena News… … in cui beveva… … però vigilanti… … eh… … una spuma al cedro… … mi par di ricordare… … è abbastanza… … che non gli piace… … fa una scena… … è una scena abbastanza… … divertente… … via… … mettiamola così… … in una situazione… … eh… … sì… … ehm… … cosa succede… … successivamente… … ecco dicevamo… … eh… … dopo eh… … che il… … marescial Amore ha deposto… … press… … nel… … durante il processo a Pietro Pacciani… … il 22 novembre 94… … fanno una nuova perquisizione… … al… … presso la bistazione di Giampiero Vigilanti… … e cosa succede? … succede che vengono… … scusami… … che giorno? … eh… … 22 novembre 94… … ehm… … vengono rinvenute e sequestrate… … 176 cartucce Winchester… … se… … ehm… … con il fondello marchiato con la H… … calibro 22… … ehm… … la cosa curiosa è che… … non erano state trovate… … nella precedente perquisizione… … per cui… … beh… … o… … la perquisizione non era stata fatta… … esattamente… … con tutti i crismi… … oppure… … ehm… … ehm… … magari erano state… ehm… … occultate… … o ottenute… … altrove… … ehm… … ehm… … il legionario… … l'ex legionario… … si difese… … sostenendo… … di averle acquistate… … al poligono di Firo… … perché chiaramente… … era amante delle armi… … così… … ma si scopre che… … ehm… … ehm… … dalla Winchester… … si apprese… … che quei proiettili… … non erano più prodotti… … dal 1981… … per cui… … dovevo averli comprati… … ehm… … se non nell'81… … negli anni successivi… … ecco… … nel senso… … ehm… … è difficile trovare in vendita… … cartucce… … nel 94… … 93… … 92… … i 10 anni prima… … però… … io faccio la domanda… … l'esame merceologico… … ha confermato… … che si tratta… … di funzionatura… … VK51… … ehm… … vai a spiegare… … è curiosa questa cosa… … vai a spiegare… … chi sono… … Rolf Reineke… … e Baldecambi… … però poi dai… … un dettaglio così… … difficile… … che… … i nostri ascoltatori… … diranno… … cosa sta dicendo… … Emanuele Sant'Andrea… … L'ho chiesto perché… … va bene la serie H… … che poi non è… … una serie H… … in realtà… … c'era la H… … di Henry… … perché era il fondatore… … della Winchester… … però… … ognuno di queste scatole… … di proiettili… … quando venivano prodotte… … avevano… … praticamente un sistema… … di punzonatura… … e quindi… … noi… … grazie… … alle perizie… … degli esperti… … della materia… … che noi non siamo… … noi ci limitiamo a leggere… … ci dicono che… … guardate che… … le munizioni del mostro… … sono… … i 51 proiettili… … guarda che… … i 51 bossoli… … sono tutti e 51… … appartenenti… … a un unico lotto di bossoli… … che è chiamato… … di BK51… … il quale è stato prodotto… … nel 1966… … se ricordo bene… … e allora mi sono chiesto… … ha confrontato… … se… … questi… … trovati a vigilanti… … erano BK51… … non si sa… … ha confrontato… … quelli di Poggio… … a Caiano… … se erano BK51… … ha confrontato… … di Santa… … perché… … cioè dire serie H… … in realtà… … noi dobbiamo dire questa cosa… … non vuol dire niente… … l'H… … è la marca… … si… … ma poi ne venivano prodotte… … a… … erano proiettili… … economici… … questi qua… … si venivano… … di giro sportivo… … quindi… … ce ne erano quantità industriali… … ehm… … ho capito… … quindi… … negli atti non c'è… … poi se… … se sia stato fatto… … questo accertamento… … è secretato… … perché non è nel fascicolo del PM… … non è dato a sapere… … esatto… … non è nel fascicolo del PM… … è secretato… … ma tu… … che tu sappia… … questi proiettili… … queste cartucce… … uguali che li hanno trovato… … hanno a che fare con quei delitti… … oppure… … niente… … non lo possiamo dire… … non lo possiamo dire… … eh no… … non lo possiamo dire… … non abbiamo elementi per poterci schierare… … dall'una o dall'altra parte… … certo… … noi stiamo dicendo questa cosa diciamo questa cosa perché magari chi ha fatto la perizia merceologica sul BK51 che è il famoso punzone magari oggi si occupa di altro o non c'è più, ha cambiato paese e città e allora quelli di oggi gli diamo uno spunto BK51 ma quindi vigilanti a un certo punto io mi ricordo che fatta questa perquisizione poi lo ritroviamo in tv però quindi riesce di nuovo di scena e lo ritroviamo questa volta in tv ospite di Enrico Ruggeri alla trasmissione Il Bibio però questo successivamente perché nel 2005 lui partecipa a questa trasmissione di Enrico condotta da Enrico Ruggeri su Italia 1 dove racconta quella che è stata la sua esperienza dal legionario non solo racconta anche che la vicenda del mosso di Firenze a lui gli ha portato fortuna e non solo fortuna gli ha portato anche i soldi perché in pratica appunto dicevo questa notizia era uscita precedentemente perché già dal 12 settembre 1998 esce su alcuni quotidiani la notizia secondo la quale Vigilanti sarebbe divenuto milionario grazie appunto alla vicenda del mosso di Firenze perché la popolarità raggiunta con alcuni articoli di giornale ed un servizio della CNN lui dice lo hanno ricongiunto ad un vecchio parente americano che una volta deceduto gli avrebbe lasciato niente po' di meno che 18 milioni di dollari questa è la storia che lui racconta esatto ci sono tutta una serie di contraddizioni e come dicevo prima ci sta anche perché insomma non parliamo di un ragazzetto ventenne quindicenne insomma è una persona che ha la sua età e quindi ha la propria età e quindi ci sta di sbagliare però è curioso appunto che dica una diversa data di arruolamento in legione 53 48 lo zio da cui post-traumatica da stress molto probabile potrebbe anche darsi il parente americano da cui avrebbe ereditato a volte lo zio a volte un cugino a volte il figlio di un fratello del nonno a volte la residenza di questo Joe è negli USA a Newark a volte è nel New Jersey trope di l'acqua non scherziamo a volte è nel Connecticut se ti coerelano io non voglio sapere niente non c'è tal niente con quell'altro chiaramente chiaramente no già faccio fatica a vederlo coinvolto senza bisogno di Giampiero vigilanti figuriamoci se io ho fatto la domanda tattica preventiva certo perché se no qualcuno avrebbe detto ma loro alludevano a Joe non è Joe anzi no Joe ma non sarà mica il famoso Joe io di Joe bevi l'acqua ne so veramente poco perché non sono riuscito ancora ad applicarmi ecco è un filone di indagine che in realtà indagine non ci sono che non mi appassiona ecco al momento io ho avuto i vari momenti cioè il periodo compagni di merenda il periodo dei sardi il periodo narducci perché di volta in volta trovavo magari degli spunti da approfondire questa pista qua se è una pista non mi riesce non ci sono neanche tanti dati ecco nel senso dovrebbe uscire un libro avevo letto da qualche parte che comprerò per approfondire questa lacuna e adesso ci faremo raccontare poi meglio tutto dall'amico Francesco Camigone ma e quindi volevo dire un'altra cosa riguardo alle contraddizioni poi c'era la presa questi 28 milioni di dollari o non solo non solo queste cose qua non tornano le indagini hanno accertato che la CNN non si è mai occupata di Giampiero Vigilanti addirittura adesso adesso uno può dire magari non era la CNN era un altro canale la NBC l'NBA esatto non solo in un articolo della Nazione Giampiero Vigilanti dice che ha chiesto di essere aiutato nel recuperare questa eredità ad un avvocato che si chiama Antonio Caputolo sono state fatte delle ricerche e non esiste nessun avvocato Antonio Caputolo presso il elenco nazionale degli avvocati istituito dal Consiglio nazionale c'è da dire che Vigilanti chiese aiuto anche a Fioravanti l'avvocato che è stato lo storico avvocato di Pietro Pacciani ci salutiamo ci sta vedendo e ci sta ascoltando infatti l'ha scritto che si era rivolto a suo papà infatti mi ricordavo di questa cosa ci teniamo anche a dire quindi ci sarà qualcosa ci sarà effettivamente questa magari non 28 milioni di dollari 25 24 allora c'è un verbale che ecco qua è un verbale del 30 luglio 2015 quindi abbastanza recente in cui Vigilanti dice per quanto concerne l'eredità io ancora non l'ho ricevuta ho capito che il pagamento potrebbe avvenire solo dopo 20 anni dalla morte di mio cugino che a questo punto è abbastanza imminente da quello che sappiamo ancora questa eredità non l'ho ricevuta che dire e quindi c'è il pagamento che avviene 20 anni dopo la morte del cugino che però è ancora vivo e lui ha 90 anni non è dato sapere ecco questi sono i dati poi ognuno tragga le conclusioni che richiene più opportune sulla veredicità di questa notizia la storia delle torri gemelle ecco esatto stavo per dire non era andata a prenderla proprio quando ci fu il crollo delle Twin Towers ha detto anche questa cosa ha detto anche questa cosa ma allora anche qui ci sono delle contraddizioni abbastanza ingenti perché a un certo punto in un'intervista dice che con questi soldi in realtà lui ha continuato a fare la vita che faceva prima si è solamente concesso una casa sulle colline vicino a Firenze io ho visto la foto della casa dove abitava al cantiere e mi sono detto ma va bene non farsi prendere troppo la testa non festeggiare più del dovuto ma davvero diventando miliardario rimarrei ad abitare al cantiere magari ha degli affetti magari ha dei motivi suoi però io faccio dire gli spartani fin da piccoli venivano educati abituati a vivere di poco e con poco quindi probabilmente Giampiero non ha bisogno di lussi e sparsi la sua forza è interiore senza ombra di dubbio non la potevi dire meglio Emanuele assolutamente d'accordo volevo concludere ah grazie un complimento sì sì certo e quindi abbiamo un po' di ciccia su questo vigilante perché mi sembra che arriviamo all'ultima parte di questa storia quando nel febbraio del 2013 l'avvocato di Ariadriani parte civile l'avvocato di parte civile per i parenti delle vittime di Gianmichel Cravecivili e Nadim Moriot fa pervenire alla procura della Repubblica di Firenze lo era stato ai tempi in cui se non ricordo male ai tempi in cui lo era Santoni Franchetti so che era rimasto in contatto con alcuni parenti di Stefania Pettini poi credo che ultimamente era solamente rappresentava solamente i parenti e gli amici di Nadine e Gianmichel dicevo questo questi allegati che fa pervenire alla procura della Repubblica che è una richiesta di accertamenti su alcuni aspetti risolti che mira a ricostruire fatti responsabilità ulteriori rispetto a quanto finora accertato con sentenze passate in giudicato e prescinde da qualunque scenario magico esoterico cosa succede dopo che praticamente il 26 luglio 2017 lancia lancia scusa annuncia il PM che ha sempre indagato sui delitti del mostro di Firenze dottor Paolo Canessa ora procuratore capo a Pistoia avrebbe indagato un ex legionario Gian Piero Vigilanti 86 anni residente a Prato l'inchiesta sarebbe condotta in collaborazione con il procuratore aggiunto di Firenze Luca Turco per cui praticamente si apprende nel 2017 che sono stati iscritti nel registro degli indagati per il concorso negli otto duplici omicidi Gian Piero Vigilanti e Francesco Caccamo che è il medico curante dell'ex combattente della legione straniera quindi appunto di Vigilanti che cosa lega Francesco Caccamo a Gian Piero Vigilanti come dicevamo prima non ci sono riscontri concreti a quelle che sono le dichiarazioni di Gian Piero Vigilanti in una delle prossime occasioni se vorrete magari le analizzeremo tutte una ad una l'unica cosa che è concreta e reale è che la high standard calibro 22 di cui parlavamo prima acquistata da Gian Piero Vigilanti era stata posseduta precedentemente da questo Francesco Caccamo il dottor Francesco Caccamo era stato il medico curante come dicevo di Gian Piero Vigilanti Gian Piero Vigilanti dice anche un'altra cosa riguardo posso inserirmi in mezzo mi pare che ci sia stato un altro proprietario sì sì è vero c'è stato un altro proprietario quindi magari può anche darsi no che Vigilanti abbia comprato la pistola da che ne so da Gianni Brogna e Gianni Brogna l'aveva comprata da Caccamo ma non non le ha detto senza ombra di dubbio eh Vigilanti nel verbale del 30 luglio 2015 aggiunge eh lei mi chiede se ho conosciuto anche Vinci Francesco e Vinci Salvatore so benissimo di chi si tratta li conoscevo quindi non solo Salvatore Vinci ma anche Francesco Vinci il fratello e aggiunge che mi sembra una cosa non da poco erano anche clienti del Caccamo e li ho visti più volte nei suoi due ambulatori a Prato Caccamo aveva un negozio? aveva un ambulatorio perché era medico e quindi esercitava questo paziente intende sì sì clienti lui scrive chi è lui o insomma chi ha redatto il verbale va bene va bene e aggiunge questo dettaglio che non è proprio da poco cioè un'informazione Francesco Vinci stava a Montelupo Salvatore Vinci stava in via Cironi e aveva però lo stesso medico li mette tutti assieme perché uno solo non bastava e quindi aggiunge anche la conoscenza e la frequentazione di questo medico dei due fratelli Vinci non è che il vigilante è un genio e ci sta pigliando in giro a tutti quanti? è quello che ci domandiamo dal 2013 più o meno ci sta un giudizio sospeso su questa persona quello che accade dopo per terminare perché se no veramente andiamo a far mattina è che vigilanti in un articolo sulla nazione annuncia che gli sono state rubate quattro pistole lui dice sono entrate in casa mia tra le 4 e le 5 di mattina mentre ero fuori a portare a passeggio il cane la denuncia di furto è avvenuta il 28 novembre 2013 e riporta una rivoltella a 5 colpi calibro 7,65 priva di marca l'iStandard calibro 22 150 cartucce calibro 22 non è indicata la marca 50 cartucce calibro 7,65 marca Browning una rivoltella Smith & Wesson calibro 357 magnum 50 cartucce calibro 38 special e una rivoltella Smith & Wesson calibro 38 special in questo cose che tutti quanti abbiamo nel comodino queste insomma mi sembra abbastanza in novembre 2013 e scusami questo è il verbale ma non è che qualche giorno prima ha comprato una di queste pistole esatto nei giorni precedenti ha comprato anche una di queste non è che qualche giorno dopo a questo prima gli hanno fatto una perquisizione e non c'era niente non mi ricordo di questa perquisizione sinceramente no non mi pare in quel dovrei guardare guarda sinceramente non voglio dire una sciocca faccio domande ma non no 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 però ho una contezza di ciò che dico adesso questa non me la ricordo sinceramente ho capito stavi dicendo no ho sentito non so se era una virgola o un punto quindi mi sono fermato però era un punto e virgola era un punto e virgola ok cosa accade dopo che in pratica Stefano Brogione Brogioni cronista della Nazione salutiamo ciao Stefano se ci ascolta ma mi sa che ha di meglio da fare a quest'ora torna a intervistare Gian Piero Vigilanti appunto il 28 aprile 2018 si apprende che il legionario definesse anche una Beletta calibro 22 Beretta che non aveva mai nominato ecco nemmeno precedentemente e dice infatti in questa intervista la Beretta era la prima pistola che ho avuto quando andavo al tiro a segno quando venni a Prato presto quindi cioè lui viene a Prato nel 63-64 di questa pistola non ci ha mai detto non è che magari si è confuso con light standard non si sa è una delle altre cose che rimane perché mai è stata trovata come se non bastasse nella medesima intervista butta lì un altro carico da mille nel senso che a un certo punto pare conoscere anche Francesco Narducci il gastroenterologo Umbro scomparso nel lago Trasimeno nel 1985 quello di Mignini quello su cui il dottor Mignini ha sbordato il dottor Mignini ci sono poi altri dettagli vabbè riguarda questa cosa ma li salterei perché altrimenti andiamo veramente e allora io qua ti metto lo stoppone ti metto il postito perché io vidi tempo fa un'intervista a Vigilanti in cui che poi fu rimossa immediatamente dal tubo in cui Vigilanti diceva che la notte del delitto di travalle di Calenzano quindi siamo nell'ottobre dell'81 egli era stato effettivamente fermato con ed era in macchina con Narducci abbiamo come prova di questa cosa solamente la sua dichiarazione perché non ci sono verbali che riportino questa circostanza quindi è l'ennesima dichiarazione non richiesta aggiungo di una persona che è innocente ma anche in questo caso fa di tutto per accentrare su di te su di sé attenzioni che mi lascia decisamente per questo se temi che qualcun altro le meriti può darsi ma i motivi sai per cui qualcuno dice qualcosa sono innumerevoli ecco nel senso non c'è una sola giustificazione per questo atteggiamento questo comportamento reiterato perché appunto l'abbiamo detto quando abbiamo iniziato a parlarne dall'inizio di questa storia dall'inizio da quando iniziano a avere interesse nei suoi confronti che l'hanno archiviato questa persona ha continuato a dare indizi indicazioni era era cioè nel senso a volte anche indelicate decisamente ecco decisamente sì cioè l'arte relativa perché l'idea che tu ti sei fatto qual è che questa persona ci è o ci fa eh questa è l'ultima domanda siamo praticamente alla fine perché dopo io volevo fare una piccola chiosa su cacca ma credo che tu hai fatto un ottimo risulto il 3 luglio del 2019 il procuratore della Repubblica turco dottor Luca Turco chiede l'archiviazione del procedimento perché insomma chiaramente nonostante le 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 indagini approfondite non è riuscito ad abbenzare eh niente di così concreto nei confronti di questa persona eh chiaramente l'avvocato di eredriani si oppone all'archiviazione il 3 settembre 2019 il 9 novembre 2020 come dicevamo prima la dottoressa Angela Fantechi ha definitivamente archiviato il procedimento dicendo anche l'archiviazione lo lo dico l'archiviazione del procedimento eh non comporta preclusioni di nessun tipo ad una riapertura delle indagini e ci mancherebbe ecco nel senso dicevamo non voglio specificarlo ah beh certo ci mancherebbe emergessero nuovi elementi perché no tutti voi che avete fatto questi lavori io io in questa cosa allora frequentavo chiaramente l'avvocato di eredriani perché ho un debito a vita nei suoi confronti per avermi consentito la lettura di un sacco di atti e per l'amicizia però tutte le indagini che loro hanno fatto che l'avvocato di eredriani ha fatto insieme ai suoi collaboratori io ne ero abbastanza al di fuori ecco magari ogni tanto ci sentivamo avevo degli aggiornamenti così però è bene dare accessori a quel che è deciso non è che me ne tiro fuori però non mi sembra giusto ecco dire che ho partecipato ad una cosa che in realtà diciamo allora che non hai fatto niente io non ho fatto niente io non faccio niente sei troppo modesto no no è vero mi imbarazza sempre un certo tipo d'attenzione ecco non lo dico insomma te lo sai ci conosciamo quindi sai bene che faccio fatica davanti a a certe attenzioni volevo scappare dalla tua domanda riguardo al fatto che Giampiero Vigilanti il signor Vigilanti possa avere un ruolo in questa storia che ci appassiona sinceramente come dicevo anche all'avvocato Viero Adriani è una personalità molto interessante ci sono quasi certamente molti più elementi che lo indicano come potenzialmente coinvolto in questa storia relativamente a Giampiero Vigilanti che non a un Pietro Pacciani secondo me il problema veramente grosso ingente di questa storia di questa vicenda è che le indagini sono partite sono state sollecitate nel 2013 e partite decisamente dopo per cui provarsi a cercare indizi elementi con così tanti anni dopo che si sono chiusi i duplici omicidi del mosso di Firenze è un'impresa secondo me entro in spaccata Parisi e Tozzini l'hanno riconosciuto? no Bardazzi l'ha riconosciuto? no la guardia giurata l'ha riconosciuto? non lo so se l'hanno risentita la guardia giurata sinceramente non ricordo nessun verbale relativo recente relativo alla guardia giurata mi sa di no mi sa di no ragionevolmente possiamo immaginare che la guardia giurata è morta e che questa persona non era così vecchia non era così vecchio in realtà no non mi sembrava anziano non credo non lo so sinceramente non lo so credo che le indagini l'hanno fatto tanto ecco nel senso quando Vieri Adriani mi raccontava un po' quello che stavano facendo quello che mi veniva spesso mi sovveniva spesso in mente era il fatto che era comunque interessante il fatto che dopo tanto tempo ci fossero nuovamente delle indagini sul mosso di Firenze e che magari anche se Vigilanti a un certo punto fosse completamente uscito di scena magari di rimbalzo avremmo potuto arrivare a qualcosa di interessante che precedentemente non era stato raggiunto in effetti a guardare il fascicolo che hanno prodotto i rossi dei carabinieri che si sono occupati di questa indagine con il dottor Luca Turco e il dottor Paolo Canessa ci sono tutta una serie di accertamenti che magari possiamo anche vedere 30 secondi di parlare non so se può essere interessante ci sono accertamenti relativi al DNA ci sono accertamenti relativi ai bossoli ai proiettili all'arma che può aver utilizzato alle impronte alle impronte nel senso faccio molto velocemente perché al mari non voglio annoiare nel senso per esempio è stata ripresa la busta giunta alla dottoressa della Monica hanno controllato la busta il foglio contenuto dalla busta il cellofan contenuto nella busta e hanno sono giunti alla conclusione che oltre al DNA di Nadine Moriot perché chiaramente purtroppo c'era questo frammento di pelle di Nadine Moriot non c'è un altro un altro DNA rilevabile nelle altre parti che compongono questa lettera oppure hanno fatto il gli esami del DNA relativamente a dei profili di un profilo genetico rinvenuto nella fodera dei pantaloni di Jean Michel sono stati fatte dei confronti relativamente al DNA di Narducci di Pacciane e di Vigilanti ma anche di Rolf Reineke e tutti non compatibili non hanno potuto farlo con il DNA di Lotti e di Mario Vanni perché come aveva già detto Stefano Brogioni mi pare in un articolo da Nazione non hanno un campione di queste persone relativamente ai bossoli e ai proiettili le ferizie dicono che i bossoli e i proiettili sono tutti sparati dalla medesima arma che è presumibilmente una pistola Beretta calibro 22 appartenente al modello 71 e suoi derivati o ad un modello 48 e suoi derivati e poi l'ultima cosa che magari può essere interessante è che però era già uscita quindi non mi sento di fare scoop questa sera non sono io quello degli scoop non solo questa sera è che la borsa rinvenuta in una perquisizione a casa di Salvatore Vinci non sono stati ritrovati profili genetici diversi da Salvatore Vinci questo più o meno neanche di Ada Pierini di Ada Pierini della sua convivente no credo che non l'abbiano neanche confrontato con Ada Pierini credo che abbiano cercato solamente il profilo genetico di Salvatore questo più o meno per dirlo in tre parole ed è quello che dicevo prima che ecco di rimbalzo siamo arrivati a tutta una serie di certezze che tutto sommato non sono scontate e danno un pochino più di forniscono un po' più di luce un po' più di chiarezza su certe circostanze riguardo a questa vicenda immensa ecco nel senso ogni passettino volto ad accertare qualcosa per me è manna dal cielo ecco nel senso tutto il mio darmi da fare su questa cosa è volto a raccontare nel modo più genuino questa storia quindi benvengano queste informazioni ma senti Francesco visto che ormai siamo in chiusura perché io di solito quando vedo scattare le 23 29 prevedo l'arrivo del sacrestano il patron che subito ci manda via ci siamo ci siamo quasi eccolo qua allora io volevo chiedere visto che questa sera abbiamo parlato abbiamo imbastito perlomeno un discorso su Gian Piero Vigilanti magari gli abbiamo anche reso un po' di notorietà o di giustizia o comunque penso che non siamo andati a dire delle cose fuori dal dal seminato sempre con grande continenza e onestà e lealtà volevo chiederti se secondo te ci sono ti piacerà ritornare a trovarci una volta in futuro per parlare più approfonditamente di quello che è successo io salterei cacca mappi e pari perché secondo me è inutile parlare non vale la pena tirar dentro questa persona che mi pare ne abbia già subite a sufficienza ecco nel senso secondo me no magari però potresti tornare a parlarci di qualcosa che hai scoperto di recente se ne avrai voglia non che tu scopra mai nulla però no assolutamente no non lo scopro niente però in senso magari fare chiarezza sì ecco questa è una cosa che a me mi interessa ecco indipendentemente da tutto il mio fine è quello insomma chiarire tutta una serie di circostanze dicevamo prima delle morti collaterali ecco secondo me e vedendo quelli che sono gli atti che poi insomma ho elencato anche in uno degli approfondimenti che ho pubblicato sul canale youtube emerge abbastanza chiaramente che non è necessario incontrare un serial killer per fare una fine atroce ecco nelle varie morti collaterali che sono avvenute negli anni in cui il mosso di Firenze era attivo non necessariamente ecco sono avvenute perché c'era un assassino seriale insomma si muore e si viene uccisi per per tanti terribili motivi ecco questo è quello che che volevo dire insomma e allora io mi sono fatto un bel nodo al fazzoletto e così in una delle prossime puntate probabilmente ti riavremo a parlare di non lo diciamo perché in fondo non lo sappiamo nemmeno noi allora grazie a Francesco Capelletti che da Firenze rimbalzando su Milano è ritornato a trasmettere su Firenze io credo che per questa sera patron sia tutto non abbiamo ricevuto neanche una telefonata secondo me perché perché ascoltavano parecchio e Francesco li ha stregati poi anche un bel ragazzo secondo me stasera abbiamo avuto tantissime ragazze che ci hanno contattato per chiederci notizie però Francesco è sposato quindi ecco perciò non è libero Francesco siete tutti troppo molto buoni c'è bronzi libero disponibile io sono liberissimo ecco grande bronzi ragazzi vi auguro buonanotte grazie veramente di cuore a Francesco è stato un onore grazie al grande Emanuele ci sentiamo abbastanza spesso mi fa anche gli scherzi vabbè però quello è un'altra cosa e buonanotte a tutti grazie buonanotte a tutti a voi grazie a tutti